Ciao ragazzi eccoci con la consueta rubrica di tecnologia. Questo che vedete è un disco rigido, in questo caso di un computer portatile. Qui all'interno vengono immagazzinati tutti i vostri dati. Il problema di questo piccolo dispositivo di raccolta dati è che spesso tende a rompersi. Esiste tuttavia un metodo artigianale che si può provare per cercare di recuperare almeno i dati anche se poi il disco rigido va comunque buttato. L'operazione da fare è la seguente. Prendete un sacchetto per suggelati, vi chiudete all'interno in modo il più ermetico possibile l'hard disk e lo mettete nel freezer. Lasciatelo per qualche oretta. Poi lo tirate fuori, lo montate di nuovo sul vostro computer e provate a vedere se il piccolo guasto si è parzialmente riparato. Questo vi consentirà di recuperare i dati perduti se siete fortunati. Ciao a tutti ragazzi alla prossima!